Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, una fine settimana ha movimentato nel cuore della città. Una coppia e poi una giovane sono stati infatti aggrediti ad Arezzo. I primi sono dovuti ricorrere alle cure mediche, mentre il secondo è stato minacciato con un coltello. Tutti e tre sono stati derubati. Due episodi di rapina che si sono verificati nella notte tra sabato e domenica nel centro. Dietro ad entrambi gli eventi potrebbe dunque esserci la stessa mano sugli episodi, saindagando la polizia di Stato. E sempre nel weekend si è consumato anche un furto in abitazione nella prima periferia retina in via Domenico Campanacci. I ladri qui sono entrati sabato sera dopo essere passati dalla giardino, hanno forzato una finestra e sono così entrati nell'abitazione. Hanno portato via alcuni monili, poi sono scappati. Anche in questo caso a far luce sull'episodio spetterà alla polizia di Stato. E adesso la cronaca giudiziaria. Un poliziotto della questura di Siracusa è stato condannato a due anni con la condizionale in un processo presso il Tribunale Aretino per stalking e falso. La gente, all'epoca dei fatti 47enne e un suo superiore di 60 anni, si finsero degli 007 dei servizi segreti italiani per sedurre una donna. Per il secondo poliziotto ci sarà un processo con rito ordinario. La storia risale alla 26 agosto 2018 quando una traduttrice 38enne di Montevarchi inviò il suo curriculum alla questura di Siracusa. A ricordare le vittime di femminicidio anche i carabinieri del Comando Provinciale Aretino questa mattina in Duomo dove è stata celebrata la Virgo Fidelis. Nella cattedrale di Arezzo, ufficiata da Monsignor Andrea Migliavacca, i carabinieri del Comando Provinciale hanno festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. La scelta della Virgo Fidelis come celeste patrona dell'Arma risale all'11 novembre del 1949 quando Papa Pio XII accolse il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. In Duomo anche un pensiero ed un minuto di raccoglimento è il ricordo di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato e di tutte le vittime di violenza. È stato un richiamo alle persone che si sacrificano quotidianamente per il bene comune e poi per Giulia perché un'altra vittima di violenza gratuita, una vittima innocente, mi sembrava giusto fare un richiamo insomma anche per tutti quanti. Nella stessa giornata, il 21 novembre, si celebra anche l'82esimo anniversario della battaglia di Culculber e la giornata dell'orfano. Al termine della messa infine un pensiero ai due carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno recentemente rimasti feriti nel corso di un inseguimento. Inseguivano una macchina che aveva compiuto un assalto a un bancomat, durante l'inseguimento sono usciti fuori strada, sono ricoverati in condizioni insomma abbastanza critiche all'ospedale Le Scotte di Siena. Stanno migliorando però ancora sono sotto osservazione. Devo dire che siamo stati fortunati, forse la mano della Madonna li ha aiutati e li sta aiutando diciamo nell'evoluzione del ricovero. Un focus sulla violenza di genere anche al forum Risk Management con numeri in aumento anche in Toscana. Una importante riflessione anche alla luce ovviamente dei fatti di cronaca di questi ultimi giorni sui dati del Codice Rosa. Un focus in particolare per quello che riguarda la ASL Toscana Sud-Est ma poi anche uno sguardo a quello che accade in regione Toscana. Questo alla diciottesima edizione del forum Risk Management appena iniziato ad Arezzo. A 13 anni dalla sua nascita il Codice Rosa ha intercettato 1918 casi di maltrattamenti nel 2022 arrivati dai pronto soccorso e i dati sono in aumento. Se i numeri stanno aumentando, se lei si ricorda siamo arrivati già sopra 3000 come prima del Covid, quindi siamo ritornati a quei valori. Però probabilmente sta aumentando la capacità nei singoli pronto soccorsi, primi soccorsi, nelle guardie mediche, nei medici di medicina generale, la capacità di vedere anche grazie al vostro lavoro. La violenza è nei confronti principalmente delle donne ma stanno emergendo anche i minori tra le vittime. Noi abbiamo cominciato a vedere a livello regionale, parlo perché i dati per fortuna non sono molti, ma a livello regionale anche le violenze sotto i due anni. Per le province della ASL Toscana sud-est ci sono già i numeri del primo semestre 2023, 119 gli accessi al Codice Rosa a Grosseto, 84 ad Arezzo, 68 a Siena. Il Codice Rosa secondo lei ha dei limiti, se sì, quali? Il Codice Rosa proprio ieri siamo stati al Ministero organizzato sull'applicazione delle linee guida a un convegno in cui sono stata invitata proprio per il punto di vista. Ci sono leggi, una è questa, il Codice Rosa, però il Codice, altri lo potranno chiamare in un altro modo, sono le linee guida che devono applicare tutti i pronti soccorsi e non solo. Il limite sta nel fatto che se tu applichi solo una procedura non funziona. Quello che noi dobbiamo, e io ripeto in questo veramente grazie a tutti voi, grazie alle altre enti e istituzioni, ma soprattutto alla squadra e alla direzione, deve esserci un'alleanza profonda con le altre enti e istituzioni e soprattutto con le grandi professioniste dei centri antiviolenza, perché se non c'è questo dialogo è inutile fare le procedure. E oggi dunque è stata la prima giornata della diciottesima edizione del Forum RISC, tema centrale di quest'anno, quello che la sanità pubblica toscana torni tra le priorità dell'agenda di governo. Più di 3.000 presenze, come vedete tutto è pieno qua, tantissimi operatori sanitari, dirigenti del sistema sanitario e tantissimi bei contributi in tutte le sale. Dall'abbattimento delle liste di attesa alla telemedicina fino ad arrivare ai fondi PNRR al Via ad Arezzo la diciottesima edizione del Forum RISC Management intitolato proprio la sfida della sanità pubblica. Nella città della Chimera oltre 1.000 relatori, presidenti di regioni, operatori sanitari e le istituzioni. Per la giornata inaugurale è presente il commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità. Purtroppo la nostra è una sanità strana, una sanità in cui alcuni riescono ad avere una delle migliori sanità del mondo e molti altri purtroppo hanno una difficoltà estrema ad accedere anche ai minimi servizi. Ecco perché a mio avviso le regioni in primis, con l'aiuto tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità di Agenas e ovviamente del Ministero, devono arrivare a un controllo accurato sul fatto che ogni reparto faccia quello che sa fare e lo faccia nei tempi e nei modi che comportino buona qualità per tutti e riduzione dei tempi. In calendario oggi il primo confronto tra i presidenti di regione, Toscana, Umbria e Lombardia, il governatore toscano nella sua relazione ha lanciato il tema cardine di questi quattro giorni più risorse per la sanità pubblica. Spero che il disegno di legge che noi abbiamo predisposto, perché il 7,5% del PIL abbiamo visto ora in una scheda tecnica che oggi siamo al 6,2% ma nel 2020 eravamo al 7,2% quindi se viene riconosciuto il 7,5% del PIL alla sanità molti dei problemi che oggi vediamo sono superati. Presente anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha messo l'accento affinché il Servizio Sanitario Nazionale torni al centro dell'agenda politica. Con questo livello di finanziamento, al di là dei numeri assoluti, è evidente che le regioni non riusciranno a mantenere in ordine i conti e saranno costrette a ridurre i servizi ai cittadini. Poi se la strada da scegliere è quella di andare verso un altro modello di sanità di tipo misto è bene che lo si dica e lo si governi in maniera diretta da parte della politica. Nei prossimi giorni, da data ipotizzata e quella del 23 di novembre, è prevista la presenza del ministro della Sanità, Orazio Schillaci. Un mondo complesso, dunque, quello della sanità e anche il mondo del privato darà il suo contributo in queste quattro giorni. Secondo me dovrebbe essere governata tutta la sanità, perché il problema numero uno, a mio parere, sono in controtendenza, non è la mancanza di denaro, è la mancanza di governo. Non è che ognuno faccia come gli pare, ma non siamo troppo lontani. E per ognuno intendo, ovviamente, i privati, le aziende private, ma spesso anche alcune, non poche, aziende pubbliche. Anche il mondo della sanità privata dà il suo contributo sul futuro del sistema sanitario nazionale. Alla luce di risorse sempre più esigue il faro, deve rimanere sempre e comunque la qualità delle prestazioni sanitarie in un paese che viaggia, evidentemente, a diverse velocità. La miglior cura ospedaliera di una larga parte dell'Italia del sud è il treno, o l'auto o l'aereo, cioè qualunque mezzo che li porti a nord per ricoverarsi, di solito per interventi chirurgici. Non è giusto. Io lavoro al centro chirurgico toscano di Arezzo, noi lavoriamo moltissimo con persone che vengono da fuori regione, anche da nord, ma prevalentemente da sud. E' evidente che se fanno 500-800 chilometri per operarsi non si fidano del luogo dove vivono. Questa è un'altra ingiustizia. Voi siete la riprova però che appunto sanità pubblica e privata possono collaborare e questo può non pesare sulle tasche dei cittadini. Certo. Noi, insomma, penso che siamo la prova vivente. Noi facciamo, noi centro chirurgico toscano, una quantità di interventi con anestesia generale, insomma, in sala operatoria mi risulterebbe addirittura leggermente superiore a quella dell'ospedale di Arezzo, con una, la qualità non sta a me giudicarla, ma con una complessità che è nettamente superiore e questo purtroppo non è una mia opinione, ma è un dato oggettivo perché c'è un modo per misurare la complessità degli interventi. E la nostra complessità media non è piccola. Che vuol dire? Che in Toscana, dove certamente la sanità privata è la meno amata tra le regioni d'Italia, però è comunque possibile collaborare con la sanità pubblica e essere una sanità, appunto, senza aggettivi. Chi sta male non gliele frega nulla se chi ti cura è un medico pagato da un imprenditore privato o pagato dalla sanità pubbasta, che ti curi bene e in una maniera che non ti svuoti il portafoglio. Anche testiamoci presente alla Forum RISC. Si tratta della campagna avviata da Ministero della Salute e Regione Toscana in collaborazione con aziende sanitarie per lo screening contro l'epatite C. Sarà dunque attiva al Forum RISC una postazione predisposta dall'Asla Toscana Sud-Est da oggi sino alla 24 novembre dalle 9 alle 17 per permettere ai partecipanti di sottoporsi ai test ad effettuarli i volontari delle associazioni di volontariato a retine. Per quanto riguarda invece la vaccinazione contro il Covid-19, si va avanti in Toscana, adesso è estesa a tutti i maggiorenni. Sono infatti oltre 125.000 le persone che si sono vaccinate sino ad adesso. Ad ottobre il vaccino però è stato somministrato solo alle categorie individuate dal Ministero della Salute come maggiormente a rischio. Adesso l'estensione della campagna dopo la consegna di ulteriori dosi da parte del Ministero. È una campagna che attiva anche in farmacia, in quelle aderenti sarà possibile effettuare sia quello contro il Covid che il vaccino anti-influenzale grazie ad un protocollo firmato tra Governo, Regioni, Provincia Autonome, Federfarma e Assofarma e con il conseguente Accordo Regione e Federfarma Toscana. Voltiamo pagina, adesso c'è una nuova allerta meteo di Codice Giallo per rischio idraulico del reticolo minore, rischio idrogeologico e vento forte emessa dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale dato che una nuova perturbazione atlantica interessa il centro Italia. L'allerta che ha avuto inizio a partire dalle 16 di oggi proseguirà per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 novembre. Aree interessate quindi anche nell'Aretino, l'allerta è quella per vento forte e riguarderà il Casentino, il Valdadno e la Valtiberina. E sempre in tema di maltempo, lo scorso anno le piene si erano fatte sentire lungo l'Archiano oggi sono conclusi i lavori di ripristino della difesa di Sponda. Anche Dante l'aveva definito Archian Rupestro proprio perché quando piove il suo carattere torrentizio si fa sentire e le sue acque diventano forti ed impetuose tanto da mettere in difficoltà e scardinare un'opera idraulica queste gabbionate alle mie spalle che erano state fortemente ammalorate appunto dalla forza dell'acqua. Noi con un intervento di manutenzione ordinaria le abbiamo ripristinate e riportate alla propria efficienza. Erano state le piene dello scorso inverno a causare il crollo di un'opera idraulica. Adesso i lavori di ripristino della difesa di Sponda dell'Archiano nel comune di Bibiena sono stati completati grazie all'alleanza tra comune e consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. È stata effettuata la ricostruzione di gabbioni aventi funzione di difesa spondale costituiti da 5 ordini i quali erano crollati a seguito di eventi meteo dello scorso anno. La situazione poi si era particolarmente aggravata dopo l'evento di piena del 16 dicembre al punto tale che il consorzio aveva dovuto riprogrammare un intervento molto più corposo per la ricostruzione più impattante e più importante dell'opera che nell'ultimo periodo rischiava di ostruire il deflusso attraverso il ponte della località Camprena. Unitamente a questo intervento di ricostruzione qui alle mie spalle grazie alla convenzione che è stata siglata con il comune è stata ricostruita anche la sponda opposta dove insiste la ciclopista dell'Archiano con l'inserimento di massi ciclopici che hanno permesso la stabilizzazione della sponda la ricostruzione della pista. Siamo davvero molto contenti di questo lavoro molto importante che va a ripristinare e a consolidare una situazione che era diventata rischiosa per tutti davvero un bel esempio di collaborazione che ci aspettiamo possa continuare anche nei prossimi anni e essere d'esempio anche per altre amministrazioni. Si è da poco concluso il primo fine settimana di Città del Natale con numeri record. Vediamo il servizio. Una città che presenta un lato magico ai visitatori ma lo presenta anche agli aretini che non tutti conoscono questa realtà della Città del Natale è vero che sono otto anni che la facciamo ma ogni anno ce n'è un pezzetto in più, un pezzetto diverso Arezzo dà il suo volto migliore in questi giorni. La magia delle feste si è già accesa ad Arezzo con il primo fine settimana della Città del Natale che ha registrato numeri record di pubblico. Ciao a tutti! Com'è bello avere un po' di compagnia! Vecine i pullman arrivati in città da tutta Italia, un via vai continuo tra le attrazioni, prese d'assalto da turisti ma anche a aretini, da piazza Sai Jacopo a piazza Risorgimento, passando per il villaggio tirolese sino alla fortezza dove è stato allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi. La quantità di visitatori, ovviamente di chi si è avvicinato ad Arezzo anche forse per la prima volta è la testimonianza con i flussi che ci sono davvero di grandissima soddisfazione sull'impegno che tutte le istituzioni, tutti noi ci siamo in qualche modo posti per questo Natale e Capodanno 2023-2024. Spazio sempre in fortezza anche alla cultura con la mostra di Fusium sui l'altro e il concettuale. A partire dal concettuale, questo movimento che alla metà degli anni Sessanta nasce in America e si insinua nell'analisi del concetto di arte, dell'idea di arte, loro iniziano e crescono e vengono fuori. Ognuno con la propria linea, il proprio linguaggio, chi lavora a partire dall'idea dell'arte per approdare ad altro, ad essere qualcosa di diverso, di più, di meno, non importa, ma di altro che si confronta costantemente con quel simbolo, con quell'idea, con quel criterio. Tra le novità di quest'anno è il minibus turistico per scoprire la città. L'idea progettuale del servizio è proprio quella, è quella di mostrare agli ospiti turisti degli angoli nascosti, magari meno battuti dalle rotte turistiche classiche e invitarli ad approfondire la visita in maniera più interessata e consapevole. A garantire la sicurezza, infine, ancora una volta, i uomini della security di Ombra. Noi collaboriamo con le forze di polizia per fare in modo che questa sia una festa, una festa di tutti, una festa del Natale e chiudiamo la percentuale di rischio non calcolabile il più possibile con la presenza dei nostri professionali operatori. Oggi è la giornata nazionale degli alberi e come ogni anno i carabinieri forestali hanno organizzato diversi eventi che rientrano nel progetto Un albero per il futuro. Protagonisti, come sempre, gli studenti, 18 le scuole interessate dal progetto Nell'Aretino. Tra queste anche l'istituto comprensivo Martiri di Civitella, dove è tornato in concomitanza anche un altro appuntamento tradizionale, quello con la cittadinanza onoraria agli alunni nati in Italia da genitori stranieri. Mettiamo le radici, mettiamo le radici per il futuro. Abbiamo piantato un albero che è il segno della vita, il segno del futuro, ma lo facciamo anche attraverso quello che è ormai un appuntamento importante per il Comune di Civitella. andiamo ad attribuire ai nostri bambini che hanno completato un ciclo scolastico, che sono figli di genitori stranieri, la cittadinanza onoraria. Una tradizione che a Civitella in Valdichiana va avanti ormai da dieci anni, il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati d'Italia, residenti nel Comune e che frequentano le scuole del territorio in occasione della giornata nazionale degli alberi. Purtroppo ancora in Italia non ci sono leggi che garantiscano quelle che sono l'uguaglianza di questi bambini agli altri e il Comune Civitella in questo vuole essere avanti e vuole rimarcare questa importanza, che siamo tutti uguali. Nella giornata nazionale degli alberi sono state poi messe a dimora piante nelle primarie Arcobaleno di Tegoleto e Rodari di Cigiano e infine all'asilo lo Scogliattolo. E' un rito, si mette a dimora una pianta, in questo caso sarà una ginestra dei carbonai e si mette a dimora e i bambini poi se ne prenderanno cura, la potranno accudire, la vedranno crescere e quindi il gesto è simbolico perché è un richiamo all'attenzione alle tematiche ambientali ma allo stesso tempo è concreto perché si dovranno poi prendere cura di questa pianta, la pianta crescerà. L'istituto comprensivo Martiri di Civitella è capofila della rete green delle scuole toscane. I nostri ragazzi vengono educati a piantare alberi, a coltivarli e a coltivare insieme agli alberi una cittadinanza equa e sostenibile per tutti quanti. A Cigiano infine è anche l'occasione per inaugurare la nuova scuola dopo i lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato il presso della primaria, un investimento di circa 286 mila euro finanziati parzialmente con fondi PNRR. Una riqualificazione importante dal punto di vista energetico che guarda anche al futuro delle scuole. Venerdì 24 novembre alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è in programma lo spettacolo 6 donne che hanno cambiato il mondo, ospitato alle 21 dal MUMEC per proporre un percorso dove saranno omaggiate le pioniere in ambito scientifico. Si tratta di un'iniziativa ad ingresso libero e gratuito promosso dalle ACLI con il contributo dell'assessorato all'immigrazione, integrazione e pari opportunità del comune di Arezzo. E arriverà presto anche un museo invece per tenere vive le memorie della prima guerra mondiale. Si tratta di un progetto promosso dalla Save the Memory Arezzolus e troverà concretizzazione nell'allestimento di uno spazio all'interno della città dove raccontare i fatti bellici avvenuti tra il 1915 e il 1918 attraverso un'esposizione di reperti cimeli, documenti e ricordi. La sede del museo sarà in via Isonzo nei locali concessi da Coingas dove verranno effettuati lavori di restauro, allestimento e messa in sicurezza con la previsione dell'inaugurazione della mostra entro la primavera 2024. E adesso la pagina dello sport per parlare di taekwondo. Andrea Conti si è imposto nella rassegna tricolore cinture nere senior che si è disputata ad Ancona. Andrea Conti ancora sul tetto d'Italia nel taekwondo. L'atleta ha vinto i campionati italiani cinture nere senior di Ancona. È il quinto titolo nazionale per l'atleta di Monte San Savino, classe 2002, che era già salito sul gradino più alto del podio nel 2015, nel 2016, nel 2019 ed infine nel 2021. Questo titolo italiano è stato più emozionante rispetto a tutti gli altri perché dopo l'anno scorso che non ero riuscito a riprendermi il titolo, quest'anno ce l'ho fatta, soprattutto sotto le fiamme rosse, quindi con il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Tutta l'attenzione che ho sentito i giorni prima di questa grandissima competizione le ho trasformati nel campo di gara, fortunatamente è andato tutto bene e niente, è stata una bella emozione e il quinto titolo l'abbiamo riportato a casa. Per Conti, già atleta dell'NR Gym Taekwondo Arezzo, si tratta della prima vittoria con la maglia delle Fiamme Rosse, il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di cui fa parte da alcuni mesi e con cui lo scorso ottobre aveva già conquistato una medaglia d'oro al Dracula Open di Bucarest in Romania. Sport, musica e spettacolo ad Arezzo per la 26esima edizione delle stelle del Ring. Il gran galà dedicato agli sport di combattimento, infatti è in programma domenica 26 novembre al Palasportestra Mario D'Agata. Si rinnova così l'appuntamento che è un evento promosso dal team Iachini con il patrocinio del Comune di Arezzo che sta acquisendo una dimensione sempre più internazionale. A confermarlo il programma di combattimento al Viale 17 che vedrà sfidarsi alcuni dei maggiori rappresentanti del panorama della kickboxing e troverà il proprio cuore nell'assegnazione di due titoli europei, un titolo intercontinentale ed un titolo italiano. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.